Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Barcellona si gode il successo con Veroli e adesso aspetta i derby contro Agrigento e Trapani per confermare di essere uscita dal periodo in cui tutto sembrava girare storto. Le tre sconfitte consecutive contro Ferentino, Casale e Napoli sono già un ricordo per i giallorossi. Coach Perdichizzi si gode il successo ma rivolge un pensiero anche al ritorno al Palalberti. Penso che stasera abbiamo dimostrato di recepire quello che facciamo e di aver giocato una partita anche molto intensa a tratti piacevole però di grande sostanza. E' quello che più ci interessa in questo momento in cui le difficoltà in primis di giocare qua in questo campo sono talmente elevate durante la settimana, durante gli allenamenti, anche nelle partite. Queste percentuali bassissime ai tiri liberi è un sinonimo di punti di riferimento in campo. Vorremmo tornare quanto prima al Palalberti per sfruttare appieno anche il nostro fattore campo e per far sì che le nostre partite in casa siano partite in cui il fattore campo giochi per noi piuttosto che essere in un ambiente che non dà punti di riferimento e che quindi dal punto di vista tecnico in campo annulla un po' quello che è il fattore campo.